Fighetti, volete anche voi vincere una skin, un ballo o un piccone? Bene, iscrivetevi a questo canale, attivate la campanella, mi raccomando di dare un like a questo video e nei commenti un commento in realtà il video Però, regà, dovete seguirmi anche su Instagram perché lì dirò i vincitori delle skin del ballo e del piccone Ciao a tutti fighetti, qua è Sykes e sono tornato in questo nuovo video perché oggi ricaveremo delle ricompense che probabilmente arriveranno su Fortnite Se non arriveranno come ricompense, arriveranno nello shop di Fortnite ma come sempre, prima di iniziare ogni video di cui lasciare un bel like, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella E se sono bianco in faccia, è perché sto utilizzando una crema per i brufoli e quindi non fate caso che io sia bianco in faccia e sono un po' brutto nei capelli perché sono le due di notte Ma lasciate stare, regà, e godetevi il video Bro, prima di lasciarti al video, ti ricordo che se vuoi partecipare a un contest dove 10 di voi vinceranno 10 account col cavaliere nero, supportami come creatore Codice trattino medio Sykes YT, mi raccomando scrivi il codice Detto questo, mandami lo screen su Instagram così posso sapere che mi supporti e aggiungerti al contest Detto questo, guardati il video Allora, regà, questa è la prima skin che appunto in teoria dovrebbe arrivare su Fortnite Battle Royale Ovviamente nulla di sicuro al 100% ma diciamo che con tutte le persone americane, tutti gli youtuber americani che continuano a fare i video su questa roba Di solito loro ci azzeccano sempre Poi vedete anche in basso a destra c'è Sinks 6 che appunto è il creatore di questo video dove lui porta sempre in anticipo appunto queste novità E io ve le porto a voi in Italia Di solito lui azzecca tutto e di fatti questa è la skin di Iron Man però trasformata con i file di gioco da Carburo a Iron Man Come vedete di fatti a sinistra c'è Carburo e a destra c'è Iron Man Perché appunto è riuscito ad entrare nei file di gioco a trasformare Carburo in Iron Man Veramente una cosa geniale e veramente molto molto bella Infatti con gli occhi azzurri e qua azzurro e appunto le righe qua azzurro Poi abbiamo vabbè anche Spider Man che appunto anche questo in teoria dovrebbe arrivare visto che c'è Iron Man Perché non dovrebbe arrivare Spider Man? Potrebbe arrivare anche Spider Man su Fortnite Battle Royale ovviamente nulla di accertato a 100% Ma ci sono buone probabilità di arrivo Ovviamente ve lo dico perché magari poi mi accusate che non arriva gratis Ve lo dico potrebbe anche arrivare a pagamento ma questo video sarà appunto a scopo di informativo Per informarvi che arriverà questa skin Non si saprà se sarà gratis, sarà a pagamento, non ci interessa Noi sappiamo che arriveranno probabilmente Però ragazzi questa fa veramente molto bella di Spider Man perché dietro cambia colore Infatti da giallo è diventato rosa prima Veramente molto carina Ma passiamo alla prossima che non so Non ho mai visto il film di Iron Man E non so che skin sia questa Fatemelo sapere qua sotto nei commenti Perché io non conosco questa skin visto che non ho visto il film di Iron Man Fatemelo sapere comunque qua sotto nei commenti di cosa si tratta Non lo so Ok ragazzi questo video breve è terminato Io spero veramente che vi sia piaciuto Se così lasciate un bel like Arriviamo a mille like sotto questo video E nulla di grande come sempre Ci becchiamo ad un prossimo video Ciao Grazie a tutti.